Presidenti, colleghi, deputati, signori del Governo, diceva Tito Livio che è raro che agli uomini siano concessi nello stesso momento successo e lungimiranza. Assaporato il gusto del successo dei ruoli di Governo, questa maggioranza sembra avere nei propri obiettivi solo quello di provvedimenti capaci di creare consenso, così come l'ansia del sondaggio prevale sul senso di responsabilità e sulla necessità di risolvere i problemi che interessano la vita dei cittadini, avendo magari la capacità di individuarli e affrontarli per tempo, con lungimiranza, dicevamo, senza aspettare che diventino fin troppo forti e radicati in modo da essere poi troppo intempestivo l'azione. Fratelli d'Italia è l'unica forza politica che da tempo denuncia con forza il rischio rappresentato dalla mafia nigeriana, mentre da parte delle altre forze politiche emerge un'evidente e grave sottovalutazione del fenomeno, mentre noi riteniamo evidente la necessità di strumenti di contrasto operativi e normativi per arginare la crescita di queste organizzazioni criminali prima che sia troppo tardi. L'insediamento prossimo del Comitato nelle mafie estranei in Commissione antimafia è già un buon segnale, ma è ancora troppo poco rispetto all'emergenza messa in evidenza dalle recenti operazioni di Polizia Giudiziaria, operazioni che hanno confermato, come l'allarme lanciato da Giorgia Melone, non sia mai stato strumentale ma frutto di un'analisi attenta e onesta e di questi fenomeni criminali sul nostro territorio, ne vediamo quotidianamente. Peccato che la maggioranza abbia bocciato anche in occasione del decreto sicurezza quel nostro emendamento con l'obiettivo di istituire nella procura antimafia delle sezioni specializzate in materia di mafia e di altre associazioni criminali straniere che noi riproponiamo con questa mozione. Ricordo che la DIA, già nella relazione nel semestre del 2016, scrive che Merso, nel corso di diverse inchieste, che si evidenzia con grande chiarezza la natura mafiosa, peraltro confermata da sentenze di condanna passata in giudicato, quello nigeriano è attualmente uno dei più efficienti e pericolosi sistemi criminali africani a livello trasnazionale. Dati importanti che vedono anche secondo l'ONU un aumento enorme di ragazzini al di sotto dei 12 anni utilizzati come soldati. Ad accendere i riflettori di questa spietata organizzazione criminale è la storia agghiacciante di Pamela Mastropietro, che fu ritrovata sezionata in delle valigie per il quale vennero fermati i tre nigeriani accusati di omicidio in concorso, oltre per vilipendi, occultamento di cadavre e spaccio di stupefacenti. Pamela, il giorno della morte, sarebbe stata abusata dal nigeriano che poi l'avrebbe stordita, uccisa e smembrata. E come dice il prof. fisiciatra Alessandro Meluzzi, la mafia nigeriana ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda. Meluzzi ha infatti anche spiegato che gli esecutori dell'omicidio di Pamela Mastropietro potrebbero aver eseguito anche dei rituali tribali, molto diffusi presso la mafia nigeriana, insieme ad altri metodi indubbiamente controversi come il cannibalismo rituale. Infatti, durante la perizia sul cadavere si nota che non vennero mai ritrovati nel cuore, nel fegato della ragazza e che i riti nigeriani vengono abitualmente utilizzati questi organi per acquistire forza dalla vittima. Ma numerose sono le inchieste e le operazioni ormai in tutta Italia. Ricordo che a fine gennaio la squadra mobile di Catania ha arrestato 16 persone accusate di far parte della banda di spacciatori di droga, dove cellule a Catania con base operativa nel carro di Mineo e che le persone fermate appartengono tutte alla mafia nigeriana e sono accusate di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e di violenza sessuale aggravata. Su questa organizzazione attiva in Italia da oltre 20 anni è attualmente in corso un'indagine da parte del Servizio Centrale Operativo della Polizia Italiana, dell'FBI statunitense e della Polizia Canadese nella zona di Castelvorturno. Voglio ricordare che l'erroina gialla arriva in Italia proprio attraverso i nigeriani che ormai la vendono a 5 euro e quindi alla portata di tutti. L'inchiesta di Castelvorturno sta confermando l'estrema efferatezza dei crimini commessi dalla mafia nigeriana che dispone di un vero e proprio esercito di immigrati in gran parte irregolari su cui contare anche come manovalanza. Secondo la DIA le nostre mafie nostrane appaltano il lavoro sporco ai nigeriani e quando questi agiscono in modo indipendente come ad esempio nel caso della vendita e lo spaccio quindi di droga e devono pagare il pizzo alle indrine piuttosto che a Cosa Nostra avvengono situazioni mal sopportate come nel caso dei Casalesi che voglio ricordare nel 2008 sparavano indiscriminatamente sulle case dei vari braccianti immigrati uccidendo oltre 6 persone. Tra le attività più frequenti della mafia nigeriana c'è anche il traffico di ordine. Nel 2016 l'FBI ha avviato un'indagine, oggi collabora con la DNA di Napoli e anche con la polizia di Caserta e questo significa che è stato intercettato tanto flusso di denaro sporco che arrivava ad Atlanta, New York, Chicago, diretti tutto a Castelvolturno. Tutte le direzioni dei clan mafiosi da anni già presenti e soprattutto nel giro della prostituzione nel loro paese. Utilizzano ragazzi dai 14 ai 17 anni, spesso orfani, abbandonati, figli di famiglie poverissime che quando non sono più allettanti sul mercato, non hanno più la pil per la pedofilia, vengono usati come miniera per i loro organi. Vengono rapiti proprio per l'espianto. Dal 2016 sono aumentati tantissimo i casi di rapimento e sarebbe appunto a Castelvolturno e le vittime passerebbero attraverso varie case abusive. Le indagini generano un terrore tra gli immigrati, non si trovano persone disposte a testimoniare. Difficilmente ci sono dei testimoni dei pentiti, tranne il caso che abbiamo letto anche sul mattino di quella donna che avendo denunciato il marito Aguzzino ha dichiarato di conoscere 5 donne che hanno venduto a 5 mila euro un rene. Questo avviene ovviamente anche attraverso cliniche presenti sul territorio, non soltanto per estrarre in questo caso reni piuttosto che altri organi, ma anche per operare coloro che in qualche modo hanno ingerito gli ovuli di droga e che nel momento in cui si rompono vanno subito operati o comunque salvati. Parliamo anche di traffico di bambini, le ragazze vanno presso la Caritas perché spesso vengono rapite al momento del parto, gli vengono presi figli per poi essere venduti alle persone più ricche che non ne possono avere. Fratelli d'Italia da tempo denuncia la situazione di Castelvolturno, infatti in questa mozione noi chiediamo che ci sia da parte dello Stato la volontà di mandare un contingente militare. Non ha avuto senso abbattere il clan dei Casalesi per poi importare mafia nigeriana. Più in generale, secondo alcune estime, gli affiliati presenti in Italia sarebbero 100.000 e costituiscono un gruppo ramificato e potente. Una distribuzione sul territorio che prende varie regioni d'Italia, dalla capitale alle isole maggiori, piuttosto che alle Marche e all'Abruzzo, ai dati recenti che abbiamo registrato a Ferrara, a Modena, la Campania, la Sicilia, la Calabria, da sempre attivi in Piemonte e in Veneto. Quindi un dato sicuramente molto ma molto allarmante, come già dichiarato dalla Direzione Antimafia nel 2017 nel proprio rapporto. Aggiungo che la DNA più volte ha parlato di questa provenienza etnico-tribale che fa sì, ovviamente, che sia un clan e che siano tanti clan di compattezza interna fortissima, attive in tutti i territori che vedono ovviamente l'Italia come il baluardo per poter espandersi sempre di più in Europa. Ricordo lo sfruttamento della prostituzione che vede donne abusate, le cosiddette chiamate mamman, gestire proprio questo settore e che sono in modo particolare utilizzate anche per il trasporto di droga, soprattutto donne che hanno ovviamente il permesso di soggiorno, donne che non hanno precedenti penali e che vengono utilizzate per pochissime volte, con il ricatto ovviamente di rientrare da quella cifra che le ha fatti arrivare in Italia che si stima dai 40 ai 70 mila euro. Gli arresti al Cara di Meneo, del resto, confermano il legame anche con alcuni centri di accoglienza e quindi dimostrano le attività dei gruppi criminali nella gestione anche dell'immigrazione illegale, posto che alcuni dei fermati avrebbero anche collaborato con i trafficanti di esseri umani in Libia. Aumenta anche la paura dell'integralismo islamico e quindi della minaccia terroristica. Nonostante il fatto che già nel 2005, ci troviamo nel 2019, i servizi di intelligence e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza abbiano contattato ben 26 questure, Comandi Generali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, per parlare dei sodalizi e dell'evoluzione di questa etnia, in qualche modo si è fatto finta di non voler adottare interventi urgenti e concreti. La chiusura dei porti sta dando sicuramente dei benefici, ma noi siamo dell'idea che la riduzione reale si può solo attuare attraverso l'impossibilità di quei barconi di partire dai propri Stati. E quindi chiediamo ovviamente che ci sia il blocco novale. Abbiamo avuto il caso Diciotti, che non è qui il caso di Riprende, ma che tutti conosciamo. Oltre alla questione dei cosiddetti barconi di urgente regolamentazione, dovrebbe essere l'attività del Mediterraneo, delle navi, di proprietà di alcune organizzazioni non governative, che operano al confine con questi territori libici, soprattutto spesso al centro di operazioni poco criare, avendo preso a bordo migranti che non erano a posto e che soprattutto erano giunti in acqua internazionale sulle quali stanno indagando varie procure. Evidente pure che il flusso incontrollato di immigrati che tenta di arrivare in Europa lasciando gli Stati dell'Africa non potrà mai essere arrestato se non si interviene a sostegno per lo sviluppo di queste persone nei loro territori e nei loro paesi. Al contrario ci sono Stati europei sempre prodighi come a dare lezione, come nel caso della Francia, che tutto fa tranne che poter dar lezioni in qualche modo a un paese come l'Italia, attraverso quello sfruttamento che fa nella sua quotidianità non soltanto degli immigrati che arrivano, ma soprattutto anche rispetto alla moneta di cui tanto si è parlato del Franco CFA. Per questo nella nostra mozione insistiamo nella richiesta al Governo di adottare ogni opportuna iniziativa per la creazione del famoso blocco navale più volte richiesto davanti alle coste libiche e che si possa impedire il passaggio delle imbarcazioni cariche di migranti regolari, con la partecipazione degli Stati membri dell'Unione Europea e in accordo e collaborazione con entrambi le autorità di Governo presenti nel territorio libico. Chiediamo quindi di garantire l'immediata creazione degli hot spot nei paesi del Nord Africa per l'esame delle domande di asilo e di attivare immediatamente centri sorvegliati nei quali trattenere chi entra illegalmente nell'emore del baglio della domanda della protezione, al fine soprattutto di poter eseguire gli opportuni accertamenti di sicurezza, rispettando il principio che chi entra illegalmente in uno Stato europeo non possa essere sufficiente a dichiararsi richiedente asilo. Chiediamo inoltre di promuovere la creazione di un fondo europeo alimentato con le risorse dell'Unione, una dotazione di 3 miliardi di euro per la realizzazione di accordi di riammissione con i paesi di origine dei migranti e il potenziamento delle operazioni di rimpatrio. Chiediamo ancora di adottare iniziative per una maggiore regolamentazione dell'ONG, prevedendo che gli enti di promozione sociale iscritti al Registro Unico Nazionale abbiano l'obbligo di avere la gestione separata di ciascuna iniziativa di raccolta di fondi che attivano il divieto di trasferire i fondi ad un'iniziativa alta. Resta il punto del Global Compact, non c'è bastata la non presenza a Marrakesh, vogliamo capire da questo Governo realmente cosa vuole fare, per quanto ci riguarda bisogna dire no. Chiudo, Presidente, per dire che Fratelli d'Italia parla di mafia nigeriana, sono tante le mafie, sono tante le mafie straniere, ma in questo caso Fratelli d'Italia non resterà a guardare aspettando un'altra Pamela, un'altra Desiree, un'altra ragazzina sacrificata sull'altare del politicamente corretto e quindi andremo avanti con questa battaglia. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il deputato Cosimo Maria Ferro.